Si avvia a conclusione l'anno scolastico, il 14 si insediranno le commissioni degli esami di Stato, il 16 inizieranno gli esami proprio della maturità. Professoressa San Vitale si arriva alla fine di un anno scolastico particolare, però gli esami si faranno in presenza così come era stato anche lo scorso anno. Anche lo scorso anno esatto e quest'anno siamo molto lieti di farlo in presenza, del resto dal 7 aprile abbiamo riniziato una situazione di riapertura e di riaccoglienza in presenza che si è allargata anche come percentuale di studenti in presenza, noi per esempio le classi quinte le abbiamo sempre in presenza, in quest'ultima fase dell'anno scolastico e chiaramente faremo l'esame in presenza, stesso protocollo dell'anno scorso, quindi verrà solo il candidato accompagnato da un solo testimone, avremo quindi la commissione che è sempre a distanza di due metri, ma chiaramente la commissione è sei membri più il presidente, quindi adeguatamente e con molta sicurezza siamo in presenza, verrà il candidato accompagnato appunto da un solo testimone, si succederanno quindi i ragazzi, i primi faranno l'esame e concluderanno l'esame di Stato proprio il 16 giugno perché come lei giustamente ha detto, la commissione è il 14 e con i ragazzi inizieremo il 16 giugno, quindi entro la fine di giugno sono conclusi quest'anno gli esami di Stato che sappiamo essere come il modulo dell'anno scorso, anche quest'anno, anno pandemico anche peggio dello scorso anno, solo il colloquio orale, si svolgerà solo il colloquio orale. Però la situazione, oltretutto in Abruzzo, addirittura ho sentito che il governatore ha richiesto di anticipare la verifica per avere la zona bianca, per cui siamo in una situazione nettamente di ripresa, per cui sempre l'uso delle mascherine, la mascherina chirurgica, non quella di comunità. Quindi porteremo tutte le misure di sicurezza, il distanziamento, la reazione costante, la pulizia, la rilevazione della temperatura all'ingresso, l'autodichiarazione di non essere chiaramente né in quarantena, né di aver frequentato nei 14 giorni antecedenti, ormai l'abbiamo imparato a memoria tutti, persone affette da Covid e né di aver alterato la temperatura, chiaramente. Quindi buon esame di Stato a tutti!